Come si rappresenta un'icona del futuro? Attraverso l'arte e la tecnologia, che oggi si uniscono e celebrano l'innovazione. Un secolo fa Giacomo Balla crea Lampada d'Arco, prima rappresentazione dell'avvento dell'energia elettrica e simbolo del progresso tecnologico. Un secolo dopo, BMW i8 si veste di luce, accentuando la sua anima vanguardista, che unisce innovazione, performance e sostenibilità. Auto sportiva del futuro, che oggi possiamo già toccare con mano, che Garage Italia Customs reinterpreta tramite un vero e proprio omaggio al futurismo. Auto sportiva del futuro, che oggi possiamo già toccare con mano, che oggi possiamo già toccare con mano, che oggi possiamo già toccare con mano.